La tempesta si avvicina! Ma che diavolo? Sembra che l'Alleanza resista ancora. Quella rotaia porta agli archivi. Se Cerberus la prende, arriveranno all'ultimo posto di blocco della sicurezza. Allora raggiungiamola. Comandate, mi ricevi. A malapena! La tempesta sta causando interferenze! Non ho capito, James, puoi ripetere? Maledizione! Questo portellone non dovrebbe essere aperto. Non sembra essere stato forzato. No, bisogna bypassare i protocolli di sicurezza. Qualcuno ha risucchiato l'aria della stanza mentre erano ancora dentro. Sembra che siano morti mentre cercavano di uscire. Questo è brutale persino per gli standard di Cerberus. Chiuderemo! 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 Quali sono gli ordini? C'è una... Chiuderemo! 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 Dobbiamo presurizzare la stanza. Ci siamo. Abbiamo accesso ai laboratori. Da lì arriveremo alla stazione della rotaia. Ehi, sembra che ci sia una registrazione di ciò che è avvenuto qui. Stazione di sicurezza, mi dicevi? Rileviamo una strana attività qua giù. I protocolli di sicurezza si sono attivati e tutto si è gillato. Dottore, le invierò un rapporto rapida. Ora sappiamo come ha fatto Cerberus a entrare. Avrei dovuto capirlo quando l'ho incontrata. Ero così concentrata a trovare un modo di fermare i razziatori. Fermare i razziatori è l'unica cosa su cui concentrarci. Non è colpa tua. E se avessimo torto? Se non esistesse modo di fermarli? E se fossero i nostri ultimi giorni? Li sprechiamo per risolvere un problema privo di soluzione? Dai, Liara. Lo so, non dovrei pensare a queste cose. Non so come tu faccia. Sei sempre lucida, anche nelle situazioni peggiori. Quando la posta in gioco è così alta, penso a cosa perderei se fallissi. È un fardello terribile. Li fermeremo, Liara. Insieme. Grazie, voglio crederti. Bene, la porta è aperta. Da lì potremo raggiungere i laboratori e la stazione della rotaia. Bene. Andiamo. Bene. Andiamo. Erollare. Bene. Andiamo. Grazie a tutti. 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 a tutti.